Si rinnova l'appuntamento con la rassegna stampa sportiva di Udinese Channel, una buona giornata a tutti voi, una rassegna che parte molto da quelle che sono le gare di Europa League delle italiane, molti dei quotidiani sportivi nazionali si soffermano appunto sulle cinque italiane impegnate nella competizione che una volta era chiamata Coppa UEFA. Per quanto concerne invece il discorso relativo all'Udinese ci sono dubbi proprio sulla partita di domenica in quanto potrebbe essere addirittura rischio visto che a Parma non ci sono neanche soldi per poter pagare Stuart, Illuminazione e un po' tutto ciò che è a corredo di una partita di calcio, veramente una situazione paradossale in quella di Parma e i maggiori quotidiani sportivi nazionali si soffermano appunto su questo tema. Stesso discorso per quanto concerne poi i giornali locali con riferimento anche a quella che potrebbe essere l'analisi tattica in vista del match con i Parmenzi. Ma partiamo subito dalla Gazzetta dello Sport che titola Coppa d'Italia per quanto concerne l'Europa League con le diverse italiane impegnate proprio nella competizione europea. Arrivano le nostre 5 in campo, stasera scatta l'inseguimento in massa ad un trofeo mai vinto. Crespo che trionfò in UEFA nel 99 dice Mancini può farcela. Quindi Hernan Crespo con il suo Parma trionfò nel 99 e allora cerca di individuare un possibile favorito tra le italiane e potrebbe essere proprio l'Inter di Roberto Mancini. Qui i possibili protagonisti da Quagliarella con il Torino, Higuain con il Napoli, Icardi con l'Inter, Mario Gomez con la Fiorentina e Francesco Totti con la Roma. Per quanto riguarda le altre notizie sempre relative alle sfide di Europa League a Glasgow alle 21.05 l'Inter, fame Icardi, ha perso 2 kg e per i 22 anni cena a Celtic Park. Roma invece alle ore 19 affronterà il Feyenoord, scontri fra polizia e ultra olandesi, allarme, 20 fermati, Garcia, tabù olimpico. La Roma che non vince all'Olimpico da ben 8 partite, quindi cerca praticamente la vittoria. A Londra invece la Fiorentina contro il Tottenham alle 21.05, Gomez sfida l'Uragano Kane contro il Tottenham, il tifo di Quadrado, ricontriamo il giocatore che è passato al Chelsea. Torino alle 19, l'ex Mondoni con Lancia e Granata nella corrida di Bilbao, fate i toreri. E poi a Trebbisonda alle 19 il Napoli con Higuain contro il Trampton Spor per mettere il silenziatore nella Bolgia turca. Quindi questi tutti gli impegni delle italiane. In taglio alto c'è un'intervista esclusiva con Demetrio Albertini, quello che era il grande rivale alla corsa alla FIGC a Carlo Tavecchio. Albertini che non le manda a dire, dice Lotito, Pippo e il calcio che vorrei si scaglia. In particolar modo proprio contro Lotito. Le frasi del presidente della Lazio sono state irritanti. Se prendi Inzaghi devi sorreggerlo dopo otto mesi, però con tre puntini di sospensione. Poi andremo a leggere qualche passaggio dell'intervista all'ex vicepresidente della FIGC a ruota libera. E poi il caso Parma al verde. A rischio la gara con l'Udinese restano soltanto 40.000 euro in cassa. La Lega è pronta a dare una mano. Quindi situazione veramente paradossale e, se vogliamo, anche imbarazzante per quanto concerne il calcio italiano, quello che sta succedendo al Parma. In taglio basso, To Ronaldo, Real da Champions. Gol e assist per la magia di Marsello. 2-0 allo Schalke 04 in casa di Matteo. Il Porto rimonta a Basilea 1-1 e Ancelotti ipoteca i quarti. Quindi grande prova da parte del Real Madrid. Poi c'è questo episodio di razzismo. Niente neri sul metro sotto accusa i tifosi del Chelsea. E qui praticamente a Parigi gli ultra che impediscono l'accesso in metro all'uomo di colore. Idea per il 2016, Cavani in pole nel progetto Juve, obiettivo l'assalto all'Europa. Si guarda anche attorno per la prossima stagione la Juventus. Allora cerca un attaccante e forse l'ho trovato in Cavani, anche se è un'operazione abbastanza complicata. Da non perdere poi sulla gazzetta. Milan in cerca di leader, occhi puntati su Montolivo e Buonaventura. E poi Bayliss torna a 45 anni in sella alla Panigale. I fan Ducati in delirio. E poi addio a Crinke Lyon, campione del mondo 84 e vittima di Argentin per quanto riguarda il ciclismo. Chiudiamo la prima pagina della gazzetta dello Sport con il rompio pallone di Gianni Gnocchi. Sono iniziate a Roma le riprese del nuovo 007. Nel film Bond dovrà evitare che l'ottito si riprenda le deleghe. Andiamo all'interno, in un certo senso perché il rompe pallone ci fornisce l'assist per parlare di quella che è l'intervista rilasciata da Demetrio Albertini alla gazzetta dello Sport con parole pesanti nei confronti di Claudio Lotito. Caro Lotito, sei irritante, Milan ti serve un insegnante. I due temi trattati sono quello di Lotito e quello del Milan di Pippo Inzaghi e di questa situazione non semplice. A proposito di Inzaghi, dice Albertini, se prendi Inzaghi devi sorreggerlo. Dopo otto mesi però cominci a fare valutazioni. Come per dire, bene aver fiducia in tecnici giovani però dopo otto mesi qualche risultato dovrebbe pur sempre arrivare. Però a quanto riguarda gli altri concetti espressi da Albertini andiamo a leggere alcuni passaggi. Parlando di centrocampisti e di possibili suoi eredi mi rivedo in Valdifiori e Baselli ma a Daniele serve fiducia. Questo per quanto riguarda Albertini e i suoi possibili eredi. Ricordiamo che Albertini ha avuto anche una parentesi nell'Atalanta proprio al termine della sua carriera. Le frasi di Lotito sulle piccole per me Empoli, Chievo e Sassuolo sono esempi da seguire. E poi il posto della Juve in Champions è tra le prime otto. La vedo sotto le favorite. Quindi questo è un demetto Albertini che analizza un po' tutta la situazione del calcio italiano. E poi c'è anche questa considerazione che fa, ripeto era Elizza con Tavecchio per arrivare al vertice della FIGC, lui che ha ricoperto nell'era Abete il ruolo di vicepresidente. L'ex candidato alla presidenza in visita alla redazione dice Fossi stato eletto avrei scelto Conte o Mancini, certo Antonio non è un mediatore. Queste le parole di Demetrio Albertini. Andiamo avanti, sempre all'interno del quotidiano rosa, con altre considerazioni che riguardano ancora le polemiche arrivate dopo le dichiarazioni di Claudio Lotito. Malagò, ok Tavecchio, ma Lotito potrebbe rientrare dalla finestra. Applausi del CONI al presidente FIGC per la gestione della delega. Se però la Lega designasse comunque Lotito per le riforme, e questo è il punto interrogativo. su quello che accade in federazione, per quanto riguarda in particolar modo la Lega Calcio. Il tema centrale della Gazzetta dello Sport è quello relativo all'Europa League. Europa League per 5, Italia, riprenditi la tua Coppa. Da 15 edizioni non vinciamo il trofeo, che quando si chiamava ancora Coppa UEFA, era la nostra riserva di caccia. Ai sedicesimi siamo alla nazione con più club e vengono scalzionate un po' tutte le situazioni relative alle varie squadre impegnate quest'oggi. Andiamo un po' a riepilogarle le sfide con il tabellone che riguarda Roma-Feynard, Trabzospor-Napoli, Torino-Atletic-Bilbao, Celtic-Inter e Tottenham-Fiorentina. Quindi 5 squadre impegnate in Europa League. Chi l'ha vinta l'Europa League nel 99 è stato Hernan Crespo con la maglia del Parma. E' anche se vogliamo nostalgico poter vedere Crespo esultare con questa maglia e vedere invece oggi qual è la situazione del Parma, che addirittura rischia di non giocare domenica contro l'Udinese. Crespo sa come si fa, è l'ora di crederci, Mancini può vincere. Quindi l'attuale allenatore della primavera del Parma, Hernan Crespo, indica Roberto Mancini come un possibile vincitore o un possibile protagonista favorito per la vittoria con la sua Inter. Andiamo nelle altre pagine perché se c'è un Inter che magari cerca conferme, c'è la Roma invece che cerca la vittoria. E' diventato un tabù l'Olimpico. Ora la Roma deve sfatare quel tabù che si chiama appunto Stadio Olimpico. Giallorossi non sorridono in casa al novantesimo da otto partite. Garzia ci crede, col Feyenoord conta vincere. Quindi soltanto la vittoria serve per il tecnico del Roma. Le altre partite e le altre squadre in campo con Mancini, l'Europa ancora ti aspetta, è la nostra notte. Il tecnico dell'Inter non ha mai sfondato nelle coppie al Celtic Park, quindi uno scenario anche abbastanza suggestivo. Non può sbagliare, dovremo lottare contro il Celtic per quanto riguarda l'Inter. E intanto Icardi prova a mettersi in riga in un certo senso, perde due chili, si mangerà gli scozzesi. Mauro fa 22 anni, non ha paura del Celtic, mi nutrirò del loro tifo. Prova a mettersi anche in forma se vogliamo Icardi. E poi c'è una curiosità che riguarda proprio gli avversari, il Celtic, perché c'è un friulano, Fasan, giocare nel Celtic è uno stile di vita. Il terzo portiere degli scozzesi è arrivato 5 anni fa, faceva il raccatta palle di Andano. Andiamo a leggere un passaggio di questa intervista molto interessante perché riguarda comunque un friulano che dice Sono nato a Codroipo, l'Udinese mi prese a 13 anni e sono rimasto fino agli allievi. Era il periodo di Andanovic, un grande, gli passava la palla per rimetterla in gioco. Quindi faceva il raccatta palle praticamente a Samir Andanovic, questo portiere, questo ragazzo friulano, Fasan, che ora è il terzo portiere della formazione del Celtic. Quindi una curiosità molto interessante che riguarda anche il territorio friulano. Andiamo avanti con le altre partite. Lasciamo quella dell'Inter contro il Celtic. C'è la Fiorentina che affronta il Tottenham, anche qui una sfida abbastanza suggestiva. Il Napoli invece con Mertens e De Guzman. Benitez già si gioca i due assi di Coppa. Trebisonda contro il Trabzonspor. Sei gol finora per loro in Europa League. In Turchia Rafa di schiera subito, mandando in panchina Kaiheon e Amsic. Questo per quanto riguarda il Napoli. Mentre per quanto riguarda il Torino, giocherà con l'Atletic di Bilbao, senti Mondonico, finalista con il Toro nel 92, proprio nella Coppa UEFA. All'epoca, quando appunto si chiamava Coppa UEFA, c'erano grandi prestazioni e anche grandi soddisfazioni da parte degli italiani. Poi da quando è stata chiamata Europa League, sinceramente le squadre italiane non hanno fatto una grandissima figura, o quantomeno non sono riuscite ad arrivare a certi livelli. Ricordiamo anche Ludinese, è stata protagonista in Europa League in alcune stagioni proprio recentemente. Quindi due protagonisti del Toro che fu, provano a lanciare la sfida con il Toro attuale, insomma, che è composto da Quagliarella, da Padelli, anche ex giocatori dell'Udinese stessa. Per quanto riguarda invece il discorso Champions, fare i puntati sul Real Madrid, Ronaldo più Marcelo, Real quarti blindati, Schalke a testa alta, Platt traversa, spaventa i Blancos, ma di Matteo, KO, Ancelotti vince la decima di fila in Europa, preso Guardiola, quindi eccolo qui Ancelotti che si abbraccia con Marcelo. Le altre sfide, il porto di rigore, Samuel gli dà una mano, il Basileo avanti con Gonzales, pari dal dischetto di Danilo per fallo dell'ex Inter, portoghesi verso i quarti, è 1-1. Andiamo poi velocemente a vedere le altre notizie e soprattutto ci soffermiamo su quello che ci interessa da vicino, perché c'è un titolo molto eloquente e anche inquietante, se vogliamo, che però riassume un po' quella che è la situazione a Parma, il Parma è alla canna del gas. A rischio la gara di domenica, alla società rimasti 40.000 euro sufficienti forse per garantire energia, steward e ambulanze contro l'Udinese. La Lega nega, ma ha già pronto un fondo. Paracadute. E allora, i punti salienti su cui ragionare sono tre. Il Parma ieri si è allenato, perché comunque i giocatori provano a gettare il cuore oltre l'ostacolo e oltre le difficoltà, e si è allenato regolarmente a Collecchio. Però ci sono due considerazioni da fare. La prima che leggiamo anche qui sulla gazzetta dello Sport, perché praticamente la procura di Parma sembra aver dato l'ok per l'istanza di fallimento. La seconda è che Manenti, l'attuale presidente del Parma, il quinto, dopo Doca, dopo Codra, dopo Ghirardi, dopo Taci, è arrivato Manenti. Manenti sembra aver detto sì, ok, i soldi ci sono, arriveranno, arriveranno, però sono tre giorni che dice che arriveranno i soldi. E in questo momento ancora non si è avuta chiarezza riguardo la situazione. La situazione di quest'oggi è che la questura dovrebbe dare parere negativo per la partita a condizioni non sicure. Quindi questo è quanto trapela, anche se poi dovrebbe esserci un fondo da parte della FIGC che potrebbe garantire almeno la disputa della partita o le condizioni ideali. Quindi illuminazione, steward, ambulanze, un po' tutto ciò che concerne il corredo di una partita di calcio. Scritto e minacciose sui muri di casa dell'ex patron Ghirardi, nuovo malore per Leonardi. Eccolo qui, Leonardi che è al secondo malore, si parla di problemi ipocardiaci per quanto riguarda Leonardi, al secondo malore, comunque nulla di grave, è rientrato comunque il discorso per quanto concerne l'amministrato delegato che ha lavorato anche qui ad Udine. Quindi è una situazione abbastanza paradossale, è logico che ci aspettiamo anche noi dell'Udinese dei chiarimenti, anche perché domani l'Udinese partirà alla volta di Parma. Logico l'Udinese pensa a se stessa, pensa a giocare una grande partita, pensa a vincere. Però poi ci sono anche gli avversari, bisognerà vedere se questa partita si disputerà e che tipo di avversario poi andrà ad affrontare la squadra friulano. Di certo è che è una situazione veramente paradossale quella che si è venuta a creare. L'ultima considerazione sulla Gazzetta dello Sport la facciamo su un ex dell'Udinese che torna in panchina, parliamo di Alessandro Calori, Brescia dove eravamo rimasti, panchina a Calori, ci salviamo. Eccolo qui Calori, ex bandiera dell'Udinese, stato anche ospite qualche volta con noi in Udinese Tonight, che torna a Brescia. E' il terzo ritorno di Calori, la terza parentesi di Calori sulla panchina bresciana con i due esonerati che sono Javorcic e Giunta. Eccoli qui che lasciano Brescia al loro posto. Arriva Alessandro Calori. Mentre per quanto riguarda il recupero di ieri, Gasbarroni Superstar in Lega Pro, Giana 3 punti d'oro. Il Pordenone è ultimo, il Pordenone allenato da Fabio Rossitto che perde nel recupero a Monaco. e per quanto riguarda il Pordenone Superstar in Lega Pro, Giana 4 punti d'oro, Giana 3 punti d'oro, Giana 3 punti, d'oro. a a a a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.